Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 9 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, su DAX e Fruitsimib. Come di consueto e come segnalo sempre, rimanere in overnight è sempre più rischioso in determinati momenti perché, come hanno fatto finte rialzo ieri per poi andare finalmente a scendere, anche questa mattina sembra che vogliano fare cose simili, ma attenzione perché comunque siamo arrivati a 23 barre di decimo t-3 e se la centratura principale non fosse corretta e non andassimo giù di peso quest'oggi inizieremmo ad avere bisogno di verificare se c'è stata una chiusura settimanale e bisettimanale persino appunto proprio su questo punto qua. Fondamentale perché i feature sono a più 143 punti su DAX e su Italia sono a 150, che è già una cosa strana perché mediamente un indice vale il doppio dell'altro e perché anche i feature sui mercati americani non sono così positivi, anzi sono lievemente sotto la parità. Per cui, gatta cicova. Vediamo, comunque intanto sapete che ci muoviamo solitamente dopo le 10, per cui vedremo che cosa vogliono fare i mercati già per quell'ora dopo l'apertura. Altra cosa interessante, ieri avevo segnalato una divergenza rialzista e ci svegliamo appunto attorno ai 12632, ben qui tra l'altro, 632, ok. E questo ci dice chiaramente che se verrà confermata appunto questa partenza avremmo avuto un nuovo T-3 che è partito da lì perché abbiamo violato vari swing e con una conferma di tempo saranno a posto. Vediamo. ok? Anche perché il programma dovrebbe essere ben diverso e quando alcune cose appunto non tornano, alcuni swing vengono violati mentre ci si aspetta esattamente il contrario, come detto bisogna fare tante considerazioni. Comunque, ritornando a noi, eccoci qua. Siamo a tre candele rosse e quindi partenza perlomeno di un nuovo T, ma noi abbiamo bisogno di una partenza di un T più 1 perlomeno e questo ce l'abbiamo anche già nella realtà dei fatti, ovvero basta un sottociclo di 2 gradi inferiori per lanciare serenamente un nuovo T più 1 per cui basta un T meno 1 a lanciarlo e noi in realtà ce l'abbiamo il T meno 1, abbiamo già tre candele per cui anche questo è un segnale di... facciamo attenzione, potrebbe aver chiuso il T più 3 qui, per cui nel caso, ecco, valutiamo bene determinate altre cose, d'accordo? soprattutto le posizioni ancora short quando siamo arrivati a 10 barre, ok? A 10 barre appunto sul massimo 11 di, poi ci possono essere raccordi a tutto quello che vogliamo, ma, come già detto nei giorni scorsi, bisogna sempre cercare di conflutare le proprie ipotesi. vediamo che cosa succede per il Fuzzimib, il Fuzzimib è in una situazione molto differente rispetto al nostro DAX, peraltro, non avendo avuto una violazione ribasso, ha avuto l'ottavo T meno 3 che è stato ribassista e ci fa molto piacere. Noi però, per la chiusura di un T più 1, perché anche in questo caso stiamo parlando di un T più 1, questo qua, avremmo bisogno perlomeno di un... T meno 2 di ribasso, per cui, per l'analisi ciclica e canonica, qui non abbiamo avuto nessun T meno 2 ribasso. Per la ciclica bisogna andare a misurare il tempo, facciamolo in questo momento, e da questo minimo a qui anche soltanto abbiamo avuto 71 barre, quindi 24,48 ce l'abbiamo, il nostro T meno 2, quindi questo potrebbe essere non il nono T meno 3, ma eventualmente un nuovo T meno 3 di una nuova struttura. E questo arriva, peraltro, mentre eravamo quasi arrivati al death cross, esattamente come per quanto riguarda il nostro DAX. Per cui, come vedete, la situazione è ben contrastata e bisogna tenere gli occhi estremamente aperti, soprattutto, appunto, dopo l'apertura che vedremo, appunto, si verrà confermata con questi livelli, nonostante, appunto, ci siano segnali abbastanza contrastanti anche arrivanti dagli USA, che sono di ben alto colore. Altre cose in particolare non ho da raccontarne qui, lo farò direttamente con il gruppo di persone che hanno deciso di darmi più tempo e di investire il loro tempo in un'analisi cipica evoluta e, oltretutto, faremo altri ragionamenti quando avremo i livelli di algoritmo per la giornata di oggi. Ieri sono stati di nuovo notevoli, ci siamo fermati a 10 punti dal livello di supporto, eccolo qua, rispetto a quello che abbiamo fatto. il minimo è stato a 12.463, noi ce l'avevamo a 453, 10 tic su 12.450 sono veramente un'inezia, sono 0,0 qualche cosa percentuale. Per cui, ricordatevi semplicemente sempre che scelta volete fare per voi, se volete essere carta da parati oppure mettervi a giocare, se volete mettervi a giocare dovete fare formazione prima di partire perché non si parte alla stregua dell'armata broncareone. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata, per me sarà così perché ho già deciso che la voglio così e sarà uno splendido anche fine settimana, me lo sento. Buona giornata a tutti!